Tre persone bloccano tre funicolari, è una città, vuol dire è un anno che vanno avanti questi che sono dei veri e propri sabotaggi, non solo a Napoli ma anche alla tua missione di salvataggio dell'ANM, ma è venuto secondo te il momento di avere un po' un pugno più duro, più fermo, cioè allontanarli, capire perché succede tutto questo? La nostra indicazione è di linea durissima, questa è la mia indicazione che ho dato da tempo e guarda caso proprio adesso che ANM sta uscendo fuori dal tunnel, che fin anche ci sono le risorse economiche per partire dal fine settimana prossima per funicolari e metropolitane, guarda caso succedono queste cose. Allora, ho dato indicazioni a tutte le componenti dell'azienda e dell'amministrazione e degli assessorati che per noi servizio pubblico significa non solo un servizio che è giusto che rimanga in mano pubblica, perché crediamo a questo, è giusto che sia così per salvaguardare i posti di lavoro, ma tutto ciò si tiene se si ragiona che bisogna garantire un servizio ai cittadini. E in una capitale del mondo come Napoli è impensabile, è impensabile che non si realizzi un servizio, io dico tutti i giorni, serale e notturno. Finora c'è stata una difficoltà di un'azienda che stava per fallire, i napoletani hanno avuto una grande pazienza, i lavoratori e le lavoratrici nella loro gran parte una grande pazienza a lavorare in condizioni difficili, sapete che ieri ho ricevuto un autista di ANM che ha preso una pietra in testa, quindi noi parliamo anche di persone a cui vale la nostra gratitudine massima e che sono i primi secondo me a essere lesionati dal comportamento, io non credo, guardate, non voglio, c'è bisogno della palla di vetro, però le malattie che arrivano in cui non ci crede più nessuno. Allora di fronte a questo ognuno sa quello che deve fare e ognuno sta facendo quello che deve fare. Chi fa il furbo, chi fa il furbo e o chi fa peggio del furbo e si ha gli elementi ovviamente di prova che questo sia, non ci sarà nessun elemento di tenerezza e di tolleranza. Punto, penso di aver detto in modo chiaro il mio pensiero. L'unica città in modo dove già un mese prima di Natale ci sta agendo sotto i palazzi che ha necessità di spostarsi. Diciamo, sì, però adesso dobbiamo, abbiamo risposto in modo, penso di aver risposto in modo molto chiaro, se volete lo dico in napoletano, però c'è anche un tema, no, c'è anche un tema che noi abbiamo salvato, l'ho detto anche grazie ai sacrifici, tutte le cose abbiamo già detto, abbiamo non solo salvato un'azienda, vi ho detto una cosa prima che non vi sarà sfuggita, abbiamo addirittura le risorse per poter pagare, per poter pagare i lavoratori e oggi, come dire, valla a raccontare in giro che noi dobbiamo garantire un servizio che serve ai napoletani, ai lavoratori, ai cittadini, ai turisti, agli abitanti, non lo si fa, non si capisce per quale motivo, quindi sinceramente ci sono delle cose che non si possono accettare. Siccome siamo una comunità di gente con la testa sul collo, io mi appello anche alla testa sul collo della stragrande maggioranza dei lavoratori e dei lavoratrici che la pensano esattamente, come me e come tutti i napoletani, perché non credo che ci sia uno che la pensi diversamente, qua non è il tema di essere d'accordo o non d'accordo politicamente con il sindaco, credo che l'hai detto anche tu nella domanda, è una cosa che tutti i napoletani chiedono e si interrono su questo, quindi se c'è qualcuno che vuole fare il furbo, in questo momento non c'è spazio per fare il furbo, perché ne va della salvezza di ANM, attenzione, perché noi non consentiremo che la salvezza di ANM passa attraverso una compressione dei diritti dei cittadini, quindi la salvezza di ANM va per mettere insieme servizio pubblico, dignità e rispetto dei lavoratori ai quali crediamo in maniera assoluta e dignità e rispetto dei cittadini che devono avere un servizio di qualità, perché hanno già sofferto troppo, adesso è il momento di dimostrare alla città che la salvezza di ANM non è un fatto ideologico, tautologico, un fatto che si racchiude nelle mura di chi fa i bilanci, ma significa la salvezza di un'azienda, significa cominciare a vedere qualche autobus in più piano piano, si deve cominciare a avere piano piano i servizi serali, comincia ad avere piano piano quel miglioramento che tutti quanti attendiamo. Mi volevo ricongiungere con i servizi serali, i prossimi 30 giorni saranno fondamentali perché ci sarà Natale e ci sarà Natale. Certo, esatto. Ecco, quindi i servizi pubblici essenziali saranno garantiti... E su quello che stiamo lavorando... E se è possibile capire a 30 giorni dal Capodanno, se ci ricongiungiamo, quale sarà l'evento della città? No, sull'evento della città non posso anticipare nulla, perché ci sarà una conferenza stampa tra qualche giorno su cui annunceremo tutti gli eventi di Natale. Credo, se non vado errato, è stata già fissata il 6 dicembre. Invece, sull'altra domanda, vi dico qual è la mia indicazione precisa che ho dato e che secondo me con la collaborazione di tutti si deve realizzare. Cioè ci sono le condizioni perché noi non possiamo in questo momento promettere la luna ma siamo in condizioni di poter dire che si può garantire un servizio serale dei mezzi pubblici parliamo ovviamente dei mezzi alternativi alla gomma, già dai fine settimana e poi garantire un servizio adeguato nelle giornate in cui ci sono eventi straordinari come l'ultimo dell'anno eccetera. Oggi sono le condizioni istituzionali, amministrative, economiche e finanziarie per farlo quindi bisogna lavorare tutti insieme per realizzarlo. Chi si mette di traverso si mette contro la città. Mi sembra assolutamente evidente, non ho altre affermazioni più adeguate di queste. Questa è la mia indicazione. Poi adesso ci sa chi deve portare a casa questo obiettivo che lo deve fare. Siccome è un obiettivo realizzabile, altrimenti non sono così ingenuo da dare un annuncio di questo tipo so che ci sono le condizioni per poterlo fare quindi se non lo si fa vuol dire che c'è qualcuno che preferisce perseguire altri interessi che non sono quelli innanzitutto dell'azienda quindi chi lo fa non si rende conto che mette in pericolo il rilancio dell'azienda e poi soprattutto il rispetto massimo che ognuno di noi deve avere per i nostri cittadini. Tra i cittadini ci sono i lavoratori ma ci sono anche ovviamente gli utenti che sul trasporto pubblico in questi mesi hanno sofferto di gran lunga e quindi dobbiamo dare un segnale a tutti quanti di buonsenso e non stare dietro a altri tipi di rivendicazioni che sinceramente non hanno proprio nessuna capacità di ascolto in questo momento.